dal versetto 23 genesi 18 è scritto così allora abramo si avvicinò e disse farai perire il giusto insieme con l'empio ammesso che ci siano 50 giusti nella città distruggeresti tu il luogo e non lo risparmieresti per amore dei 50 giusti che si trovano nel suo mezzo lungi da te o signore il fare tale cosa far morire il giusto con l'empio cosicché il giusto sia trattato come l'empio lungi da te il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia l'eterno disse se trovo nella città di sodoma 50 giusti io risparmierò l'intero luogo per amore loro in seconda re capitolo 1 dal versetto 13 è scritto così il re mandò ancora un terzo capitano di 50 soldati con i suoi 50 uomini questo terzo capitano di 50 salì e andò a gettarsi davanti a elia e lo supplicò dicendo o uomo di dio ti ti prego la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi siano preziose ai tuoi occhi ecco un fuoco è disceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani di 50 con i loro 50 uomini ma ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi luca 18 due versetti solo 13 e 14 il pubblicano invece stando lontano non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo ma si batteva il petto dicendo o dio sia si placato verso me peccatore io vi dico e gesù che parla che questi e non altro ritornò a casa sua giustificato perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato a me questa è il mio auspicio e la mia preghiera che chiunque ascolta la sua parola questa mattina possa tornare a casa in pace sentirsi perdonato giustificato significa sentirsi perdonato sentirsi amato sentirsi accolto da dio e quindi ricominciare è come se la speranza si rinnova è come se le forze vengono rinnovate ricordatevi che coloro che sperano nell'eterno è vero salgono in volo come aquile d'accordo quindi possiamo avere dei momenti in cui ci abbattiamo e dei momenti in cui saliamo siamo forti fa parte della nostra vita spirituale la chiesa uno dei servizi che compie la chiesa tra i tanti servizi che compie attraverso i ministri servitori tutti i fedeli siete tutti sacerdoti compie il servizio di esortare di consolare e di incoraggiare i fratelli è previsto nel dono di profezia prima corinzi 14 3 questo è qualcosa che nella chiesa ci deve sempre stare perché la battaglia fuori e la battaglia dentro di noi è qualcosa di terribile è una battaglia che solo con il signore possiamo vincere a me vi ho detto che vi avrei parlato di come ci si presenta dio giovedì e ho scelto tre uomini domenica prossima parlerò di tre donne ma questo non significa che non riguarda anche voi donne insomma il modo di presentarsi degli uomini e ho scelto un padre del padre della fede abramo un capitano un ufficiale un militare un militare e poi un esempio che fa il nostro signore gesù cristo il padre della fede ci insegna ad essere coraggiosi verso il signore ma allo stesso tempo ad avere timore il giudice della terra le persone credono di non essere mai giudicate ma verrà il giorno dice l'apostolo paolo in atti 17 che dio giudicherà il mondo per mezzo di suo figliolo gesù cristo dio ha creato il mondo per mezzo di suo figliolo gesù cristo dio giudicherà il mondo per mezzo di suo figliolo gesù cristo dio salverà coloro che riconoscono solo che riconoscono che riconoscono la grazia che ha dato gesù sulla croce gesù è tutto per dio è il figlio è il figliolo di dio è colui che è eternamente amato dal padre ma quello che voglio dirvi questa mattina riguardo a queste tre considerazioni è la prima che vi ho detto di abramo che dice il giudice della terra farà egli giustizia farà morire il giusto con il peccatore farà un misto farà come oggi siamo tutti peccatori siamo tutti giusti siamo tutti buoni tutti cattivi c'è una genere una un modo generale di parlare poi quando le persone si sentono accusate anche in politica oppure oppure nei condomini oppure nel lavoro alla fine cercano di abbassare il livello a tutti in modo che siamo tutti una vergogna e così anche loro possono sguazzare dentro ma nella parola di dio c'è una differenza c'è il giusto e c'è l'empio c'è il giusto e c'è il peccatore c'è il santo e c'è l'impuro questa è la differenza gesù stesso fa una differenza quando parla ci sono le pecore del signore che vanno a destra e i capri a sinistra e quindi fa una differenza quello che a volte l'uomo non vuole accettare o le persone non vogliono accettare che c'è un giudizio da parte di dio e noi siamo scampati a quel giudizio a quell'ira perché il sangue di gesù ci protegge in questa vita a me ma chi non ha questa protezione non c'ha c'ha su di lui l'ira di dio nel senso che il signore è arrabbiato con te è arrabbiato perché i pecchi e perché il tuo peccato ha deciso la morte del figlio per cui il figlio è morto quindi l'ira di dio significa che non ti andrà bene nulla e che anche se ti va bene non sarai felice di nulla perché niente può recare felicità all'uomo se non gesù cristo che ti mette in pace con dio quando stai in pace con dio qualunque cosa tu hai o qualunque cosa tu non hai non ti sconvolge più perché impari a essere contento nello stato in cui stai e anche se hai dei desideri sono dei desideri che metti davanti al signore e quindi non hai l'affanno l'ansia l'invidia la superbia l'orgoglio che prende questo mondo d'accordo il padre abramo ci insegna come bisogna presentarci a dio facendo l'opportuna differenza signore non salverai tu la città eppure padre abramo intercede per una città per questo noi dobbiamo pregare per la città dove dio ci ha messi come dice geremia cercate il bene della città dobbiamo pregare per napoli ed agire per napoli perché noi amiamo napoli io amo la mia città dobbiamo pregare per le autorità e fare il possibile per rendere la nostra città quando più bella possibile bella in virtù bella in onestà ma bella anche nelle cose semplici della vita abramo il signore gli concesse di intercedere quello che voglio dire questa mattina abramo si presenta a dio a confidenza con dio ma allo stesso tempo a timore dice signore tu farai questo perdonerai per 50 giusti dice signore io perdonerò io libererò soldo e allora abramo va a scalare se ce ne sono 45 dice il signore lo farò e se ce ne sono 30 lo farò e se ce ne sono 20 io lo farò e se ce ne sono 10 io lo farò perché dio è misericordioso ma non trovò neanche 10 giusti nella città di sodoma non trovò non trovò nessuno trovo solo come dice in pietro il giusto lot e solo lui si salvò perché le figlie non erano giuste anche se lo seguirono la moglie si girò e furono distrutte quindi il signore giudicò quella città impura coi sodomiti con tutte quelle volgarità sessuali perversioni e il signore distrusse e gesù fa un riprende questo tema dice come anche si ripeteranno quei giorni di questo forse non ne parliamo abbastanza ma il signore addizione gesù ha promesso che tornerà le sue promesse si sono adempiute adempire anche questa il nostro dio è un dio di parola non mente non cambia idea non parla la mattina e la sera cambia il nostro signore ha una parola e la manterrà a me voglio dire una parola per incoraggiare riguardo a questo gesù disse nella grazia guardate quanta grazia ci ha portato gesù che quando entrate in una casa dite pace a questa casa se trovate un figlio di pace dice la pace dimorerà su di lui e poi dice matteo su di essa quindi con gesù con gesù è venuta una grazia incredibile cioè che dio ci fa grazia che anche se c'è una persona convertita in casa il signore è come se si fermasse come a dire per quello io faccio del bene anche agli altri che non onorano il mio nome vedi come sei importante a casa tua anche se tu fossi il solo la sola sei importantissimo perché tu mantieni è come se tu dicessi signore abbi pietà della mia casa di mia moglie di mio marito dei miei figli signora abbi pietà e quelle mani alzate fermano come dire sono una protezione per i tuoi cari andiamo al secondo al secondo modo di presentarsi qui abbiamo un militare un capitano abituato a comandare sono stati già mandati altri due capitani quale con i quali si sono comportati e presentati a dio con modo arrogante quando ti presenti davanti a un servitore anche con modo arrogante tu non puoi ricevere nulla ma questo ci insegna che noi non possiamo arrogarci dei diritti davanti a dio dobbiamo saperci presentare non dobbiamo pretendere dobbiamo signore noi ti chiediamo e secondo la tua parola ti chiediamo l'adempimento delle tue promesse d'accordo noi possiamo chiedere a dio l'adempimento delle sue promesse possiamo chiedere ma non possiamo mai avere un atteggiamento arrogante davanti a lui e né arrogante tra di noi la superbia è un peccato perché offende il signore dice il signore che l'umiltà precede la gloria e l'umiltà cioè sapete dove si vede nella bocca dello stolto dice in proverbi c'è la superbia lo stolto sa tutto lui capisce tutto della vita e perché non vai a comandare il mondo allora che qua nessuno capisce niente lo stolto dice sempre di capire dice sempre lo stolto non accetta che altri possono capire c'è un'altra cosa lo stolto non accetta che più i giovani possono comprendere per lui ha acquisito un'esperienza certo io ho acquisito un'esperienza ma questo non significa che la mia esperienza sia al cento per cento la mia esperienza mi deve farsi capire che quando ero giovane volevo essere ascoltato e quindi l'ascolto è vero l'incoraggiamento ai giovani aiutare loro vi siete voglio dire voglio ricordare a tutti quelli che hanno i capelli bianchi o una che hanno fatto una certa esperienza nella vita quando avevamo 19 anni 20 anni come eravamo avevamo il mare dentro una vita incredibile nessuno ci capiva non ci capivano i genitori non ci capiva nessuno pensavamo di capire tutto noi poi ci siamo accorti adesso che avevano ragione i nostri genitori e poi desideriamo che i nostri giovani ascoltino o pretendiamo che facciano quello che noi diciamo cosa che noi non abbiamo fatto ma che abbiamo imparato dai nostri genitori che hanno avuto tanta pazienza con noi e tanta preghiera per ognuno di noi questo ci insegna a come relazionarci con gli altri e a come relazionarci con dio non ci deve essere arroganza neanche nell'esperienza quando diciamo qualcosa la diciamo per consiglio se qualcuno ascolta bene se qualcuno non ascolta bene lo stesso non sei un mio nemico non sei obbligato ad ascoltare quello che io ti dico io ti do un consiglio deve essere da parte tua accoglierlo questa è la libertà che abbiamo perché Gesù non imponeva niente Gesù diceva anche voi me ne volete andare disse i discepoli chi mi vuol seguire prenda la sua croce Gesù invitava continuamente le persone ma non obbligava non non dava obblighi perché altrimenti qualcuno poteva pensare che ubidendo avrebbe ricevuto la grazia la grazia è un favore dell'eterno e ricordatevi dio non è in debito con nessuno nessuno può comprare la salvezza dio non ha debiti a me nessuno di noi può portare o pensare di saper fare chissà che è quello che tu fai per quel per quello che tu fai dio ti salva dio ti salva perché ha pietà di te a me e perché ha avuto pietà di me grazie signore a me il capitano intercede per 50 uomini lui sa che potrebbe fare la fine di quei due che l'hanno preceduto e ha imparato questo capitano ha imparato dall'esperienza di altri pensa un po ai tuoi amici alle tue amiche come vivono che esperienza hanno fatto cosa è successo nelle loro case immagina un po comincia a pensare questo e comincia a vedere come si presenta il capitano perché se io penso ai miei amici qualcuno è morto per la droga qualcuno ha fatto una brutta ha avuto un incidente stradale altri si sono separati nelle case è successo e quando penso queste cose io posso solo dire signore voglio presentarmi come questo capitano davanti a te perché se mi volgo indietro io non posso guardare quello che ho quello che vorrei devo guardare quello che altri hanno avuto senza il signore per glorificare il suo nome e per presentarmi a lui come questo capitano signore dice davanti Elia abbi ti siano preziose le vite di questi 50 uomini e della mia non mi far morire abbi pietà di noi è vero Elia con gli altri che avevano avuto un atteggiamento ignorante arrogante presuntuoso perché il re aveva comandato andato a prendere Elia e ma come l'andiamo a prendere voglio pure obbedire al re ma ci vado con calma ci vado con tenerezza con rispetto con onore è vero il capitano non ha disobbedito al re ha obbedito al re ma dentro l'ubbedienza ci ha messo la gentilezza la sottomissione la grazia noi dobbiamo obbedire al signore ma con la grazia con la gentilezza con la sottomissione il capitano viene ascoltato da Elia e Elia lo seguirà l'intercessione di questo militare di questo ufficiale ci fa ricordare anche l'intercessione del centurione che qua dice io non sono degno signore che tu vieni nella mia che tu entri nella mia casa ma di soltanto una parola è vero di soltanto una parola il mio servo sarà guarito è incredibile come Gesù agisce nei confronti di questo centurione dopo lo citerò un'altra volta in Israele non ho trovato cotanta fede è vero quindi questo militare ci insegna questo capitano ci insegna come presentarsi al signore ci si presenta anche davanti al servitore del signore con un modo gentile con un modo sottomesso con un modo di amore e ricevi la risposta di grazia fu graziato 50 uomini e il capitano portarono a casa la vita e portarono a casa e portarono dal re anche Elia ubbidirono all'ordine e si salvarono la vita perché seppero come agire nei confronti di un servitore di dio come Elia ora andiamo all'ultimo questi sono tre uomini il primo ha interceduto per la città ma anche se ha pregato padre abramo il giudizio è sceso a me perché nessuna preghiera nostra fratelli può salvare gli empi chi salva gli empi è il signore gesù e dio attraverso gesù a me noi possiamo pregare signora bi pietà salva quella persona ma se gli empi se il peccatore non si ravvede la sua fine è certa è certa a me siete d'accordo a me la parola dice così non c'è scampo allora fratelli andiamo all'ultimo sto parlando sempre di uomini di come si presentano al signore abbiamo visto uomini fino adesso il padre della fede il capitano umili senza orgoglio il capitano si prosta davanti c'ha 50 uomini che lo guardano a noi basta un amico due amici che ci guardano già ci sentiamo importanti lui c'ha 50 uomini davanti al quale pendono dalle sue labbra e lui si inchina e chiede pietà e chiede aiuto a Elia vuol dire che degli altri non si interessa del giudizio degli altri vuol dire che non gli interessa sapere gli altri quello che pensano di lui ma lui interessa che ricevere la benedizione di dio la benedizione da parte del profeta ora il terzo è un esempio incredibile è un esempio cari fratelli e care sorelle a tutti quanti voi noi devo dire una cosa noi non troviamo un uomo così nella scrittura ieri ho sfogliato il vangelo tutto luca tutto matteo dice ma fratello cosa stai dicendo pastore tu hai letto poco anzi che c'è un questo pubblicano sì l'ho letto ma è un esempio che fa gesù non è reale è una parabola è qualcosa che gesù vuole da noi uomini è qualcosa che gesù sta dicendo come vorrebbe che si pregasse verso di lui ha avuto tanti uomini nella bibbia ma tutti gli uomini è che si sono rivolti al signore avevano delle bisogno di guarigioni signore ho bisogno di un posto di lavoro si lebroso aveva bisogno di essere guarito il cieco gridava perché voleva vedere la donna non voglio parlare delle donne parlerò domenica ma comunque i bisogni che c'erano l'indemoniato gridavano ai piedi di gesù ma nessun uomo si è presentato nella scrittura reale sto parlando gesù è costretto a dire una parabola perché nessun uomo si è presentato nei vangeli che io ho sfogliato come dice gesù significa che il signore gesù ha bisogno desidera che gli uomini si presentano a lui con questo tipo di cuore con questo tipo di atteggiamento e lui mostra come attraverso questa parabola sta dicendo sta facendo una metafora sta raccontando una storia un desiderio del signore un esempio che lui pone davanti alla chiesa e davanti a tutti gli uomini quest'uomo che viene dopo un fariseo un religioso che ha tutto occhio al cielo quest'uomo non ha è si presenta al tempio quindi vuol dire che ha una certa conoscenza delle dinamiche di dio sa come sa dove andare sa il percorso sa che deve venire in chiesa sa come deve sa sa che là viene portato ma sa gesù guardate cosa ci presenta ci presenta un uomo che non ha che ha e si presenta in un modo che lui ha vergogna di se stesso a vergogna della sua vita ha disonore sente un disonore nella sua vita sente un'onta nella sua vita e quando un uomo ha provato queste sensazioni sente dentro un grande debito verso dio e verso tutta l'umanità per questo l'apostolo paolo dice io sono debitore quanto ai romani, quanto ai greci, quanto ai giudei, a tutti, perché quello che io sono l'ho visto, comprendete fratelli e sorelle, quando un uomo ha provato questa sensazione di vergogna assoluta, dentro sente un ristoro, una benedizione, un conforto, l'amore di Dio pervade la sua vita perché neanche lui si dava pace, non aveva, non ardiva a alzare gli occhi al cielo, non ce la faceva, stava col capo chinato e provava una grande vergogna e diceva solo due parole, non diceva una grande preghiera, la preghiera più breve della Bibbia, è la più breve che esiste nella scrittura, o Dio sii placato verso me peccatore, punto, Gesù ci insegna, ci insegna come presentarsi a Dio, noi ci siamo presentati, io mi sono presentato un giorno, ma non avevo questa consapevolezza, mi sono presentato con gioia, ho pregato, ho ricevuto la salvezza, ma non avevo questa consistenza di sentirmi svergognato in questo modo, è nella Chiesa, nel processo di crescita spirituale che ho sentito dentro di me questa profonda vergogna, questo disonore, quest'onta davanti a Dio di tutte le mie azioni sbagliate, le mie bugie, le mie menzogne, il mio modo di essere, di porti la superbia, l'orgoglio, l'invidia, il pensare a male, il non gioire con chi viene benedetto, a quel punto ho capito quanto mi ha amato Gesù, nonostante tutti gli anni che sono passati, amè? Ora quando fratello, sorella, quando tu realizzi questo e vedi questa consistenza, quando tu ti presenti al Signore con questa esperienza, sai Dio cosa farà ogni volta che tu ti presenterai davanti a lui, a casa tua, in chiesa, martedì, giovedì, i giovani, tu sentirai dentro di te costui tornerà a casa giustificato, senti che l'accusatore è caduto, senti che lui non ti può far paura, senti che hai vinto, senti che la parola di Dio entra nella tua vita, senti che dentro di te hai preso una decisione, che non mentirai, che dirai la verità, che amerai i tuoi fratelli, che manderai via i tuoi pensieri, che vengono ogni tanto, sapete, noi veniamo riesumati dall'orgoglio nostro che è latente nella nostra vita, ogni tanto viene fuori qualcosa, esce fuori dalla vasca dei battesimi e senti dentro di te quanto Dio ti ha amato, è vero, il Signore Gesù ci insegna il modo che lui desidera e il modo in cui tu riceverai risposta da Dio, noi non sappiamo che quest'uomo è una metafora del Signore, è una parabola di Dio, lui tornò a casa perdonato, Gesù non ci dice niente perché quest'uomo è lui che l'ha presentato, è l'esempio del cuore di ciò che Gesù vuole nel cuore degli uomini, perché noi siamo intrisi di orgoglio, siamo pieni di superbia, questo non significa che non dobbiamo avere fierezza o non dobbiamo avere autorevolezza, per carità io sono anche a volte fin troppo sotto questo aspetto o sono effettivamente a volte troppo fiero o sei troppo fiero anche tu, ma questo significa che dentro di te ci deve essere fratelli e sorelle la consapevolezza di come ci si presenta al Signore, è sapere una cosa e questa è una certezza che devi avere nella tua vita, quando ti presenti così e sei consapevole di come ti presenti a casa, te ne vai in pace anche questa mattina, te ne andrai in pace, sai che significa? Ci può essere grande tempesta fuori, ci può essere tempesta fuori da casa tua, tempesta nella tua casa ma nulla ti muove, hai creduto in Gesù Cristo in una maniera più profonda, più forte a Lui perché hai ricevuto una risposta che nessuna, nessun acquisto che fai ti può dare, nessuna gioia della vita ti può dare perché hai ricevuto dentro di te una presenza che è eterna nella tua vita, il perdono del Signore Amen Vogliamo alzarci fratelli e sorelle? Ognuno nella parola del Signore e anche tante volte in mezzo a noi ci sono persone che si... venite potete salire, ci sono fratelli, sorelle, amici che si presentano per chiedere qualcosa al Signore quest'uomo, Gesù dice, si presenta solo, Signore non vuole essere guarito, non cerca lavoro, non cerca moglie, non vuole fare pace con la moglie, niente Signore si placato verso me perché la tua presenza vale più di ogni altra cosa perché tutto il resto sarà sopraggiunto quest'uomo si presenta nudo non va con un tacquino in mano, non ha scritto una lista non chiede perché il mio figlio non si converte, perché non mi risponde ma basta così perché basta avete visto come ci si presenta a Dio? e quando vi parlerò delle donne, domenica le donne tremerete come si presentano le vostre sante che vanno preceduto tremerete perché sono migliori degli uomini allora basta quando si va davanti al Signore Signore alzo le mani, mi arrendo non voglio sapere il perché Signore io ti prego sempre per mia figlia Miria ma non ti chiedo il perché ti chiedo solo la bibietà amè? anche voi la stessa cosa amè? e poi non voglio essere prendo un impegno a Dio non voglio essere il saputello colui che sa anche se sono pastore niente, non mi interessa mi interessa la benedizione del Signore e la sua volontà non mi interessa la benedizione del Signore